Come fa un telescopio a ingrandire così tanto i corpi celesti? Beh, lo scopriamo dopo la sigla. Ciao, io sono Luca e sono youtuber e racconto una storia facile per tutti. E quindi se vuoi sapere di più di questo mondo ti consiglio di iscriverti al canale. Innanzitutto capiamo che cos'è effettivamente un telescopio. Un telescopio è uno strumento ad alta precisione che ci permette di vedere meglio i corpi celesti. Ma adesso rispondiamo alla vera domanda del video. Come mai i telescopi riescono ad ingrandire così tanto? Beh, la cosa più intuitiva che viene da dire è prendere un oculare che ingrandisce moltissimo e così riesco a farlo ingrandire. Invece no, è la cosa più intuitiva ma più sbagliata. Infatti, vi faccio un esempio. Se noi prendessimo due spirapolveri, uno con il tappio più grande e l'altro con il tappio più piccolo, con lo stesso periodo di tempo quello più grande riesce a catturare più polvere rispetto a quello più piccolo. Beh, è così che funziona il telescopio. Il telescopio con il diametro più grande riesce a catturare più luce rispetto a quello con il diametro più piccolo e quindi riesce a ingrandire di più quello con il diametro più grande. Quindi, come si fa a capire effettivamente quanto un telescopio riesce a ingrandire? Beh, basta moltiplicare il diametro per due. Quindi, facciamo un esempio. Se un diametro è di un telescopio di 150 mm, moltiplicandolo per due abbiamo un 300x, cioè un 300 ingrandimenti. I telescopi si dividono in due grandi gruppi, rifrattori e riflettori. I rifrattori sono quei telescopi che rifraggono la luce e la mandano appunto al nostro occhio. Hanno una buona risoluzione, ma il loro problema è che possono essere usati solo per pianeti vicini, quindi Marte, Giove, Saturno, Mercurio, Venere, e non per colpi celesti nel cielo profondo. I telescopi e i riflettori sono composti da due specchi, uno primario dove è curvo e l'altro secondario dove è messo in diagonale. Ormai si usano molto spesso gli specchi perché sono più facili da costruire rispetto alle lenti e poi sono molto più economici. Possiamo pensare dei telescopi tipo Hubble o James Webb che usano appunto gli specchi. Ma vi chiederete come funzionano questi telescopi? Beh, semplicemente la luce viene convogliata verso lo specchio primario e poi lo specchio primario manda la luce verso quello secondario e viene riflessa verso l'oculare. Ma come fa un telescopio a catturare la luce? Beh, semplicemente perché è un'onda elettromagnetica, un po' come le onde radio, solo che va a una velocità di 300.000 km al secondo. Adesso, prima di arrivare all'ultimo punto, cercherei di fare un riassunto di cosa ho detto in generale. Nel primo punto abbiamo capito che il telescopio riesce a raccogliere molta più luce rispetto ai nostri occhi. Secondo punto riesce a catturare molti più dettagli rispetto a come li vediamo noi, infatti è detto che ha un potere risolutivo. Per terzo, il diametro del telescopio è direttamente proporzionale all'ingrandimento massimo, cioè più grande il telescopio e più grande l'ingrandimento massimo. Per il quarto ed ultimo punto, i telescopi si ridono in due grandi gruppi, riflettori e rifrattori. Se vuoi vedere solo pianeti, consiglio un telescopio rifrattore. Se invece vuoi vedere anche, per esempio, nebulose, galassie, allora consiglio un telescopio riflettore. Ma adesso passiamo al tasto dolente. Il tasto dolente è l'immagine, perché qualsiasi persona che prende un telescopio pensa di vedere le galassie, le nebulose, così. Questa è una nebulosa occhio di gatto ed è una foto della NASA. Il problema è che quando poi prende il telescopio vedo una foto tipo questa. Questo è l'osservata io col mio telescopio ed ha un diametro di 150 mm. E il problema è che la foto della NASA è un insieme di immagini e poi è unito ovviamente e poi guarda tendenzialmente verso un campo infrarosso. Per esempio, James Webb è solo campo infrarosso. Hubble è già visibile e infrarosso. Quindi, in sostanza, si vedono più colori rispetto a quanto noi ne vedremmo. Poi c'è anche da dire che il nostro occhio anche ha un limite. Infatti, quando si osserva questi corpi celesti, sarebbe meglio non osservarli direttamente così, cioè dritti, ma bisogna osservare a uno dei due lati dell'occhio, perché ha un campo visivo un po' migliore. Ovvio, non cambia di tanto, però un pochino, qualche colorino forse si riesce a vedere. Ebbene sì, il video è finito, ma vi voglio ricordare che io ho una pagina TikTok che faccio anche degli shorts, che do delle chicche interessanti. Quindi, se vuoi andare anche su TikTok, trovi il link in descrizione. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao! Ciao!